dal vangelo secondo luca in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angusciato finché non sia compiuto pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra no io vi dico ma divisione dorinanzi se in una famiglia vi sono cinque persone saranno divisi tre contro due e due contro tre si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre madre contro figlia e figlia contro madre suocera contro nuora e nuora contro suocera grazie a tutti